Buongiorno amici, vi presento due notizie all'apparenza irrelate uscite sui giornali di oggi. La prima, si sono stati 18 arresti in tre diverse regioni d'Italia nel settore dell'accoglienza agli immigrati. Con i fondi ottenuti dallo Stato, gli arrestati ristrutturavano ville e organizzavano feste. Sarà un caso isolato? Non tanto, perché la sola guardia di finanza negli ultimi anni bussa alla porta di una onlus mediamente una volta ogni sei giorni per arrestare qualcuno, qualche truffatore. I filantropi, finti filantropi, fermati ieri, tra le altre cose, avevano messo in nota spese allo Stato il restauro di una villa con campo da tennis e l'inchiesta è partita invece quando in nota spese è finita la festa di come sono finite le spese, della festa di compleanno di un ragazzino, festa con 100 invitati. Nel 2018, in seguito alla riduzione degli sbarchi, lo Stato italiano ha risparmiato 1,6 miliardi di euro, con grandissimo dispiacere della criminalità organizzata che naturalmente campa alle nostre spalle con la scusa dell'accoglienza agli immigrati, di organizzare l'accoglienza agli immigrati. Naturalmente non stiamo dicendo che il mondo delle onlus sia tutto così, tutt'altro, però questi casi vanno presi in esame e vanno sottolineati. Si capisce, tra l'altro, cosa intendeva Salvatore Buzzi al centro della cosiddetta dell'inchiesta Mafia Capitale, che poi non era mafia, quando diceva che si guadagna di più con il traffico degli immigrati che con il traffico degli stupefacenti. E veniamo alla seconda notizia. Se volete approfondire la prima, dovete prendere il quotidiano libero, dove c'è un pezzo di Lorenzo Mottola che spiega nel dettaglio quello che io vi ho sintetizzato adesso. L'altra notizia arriva invece dal giornale ed è firmata da Alberto Giannoni. Il bravissimo Giannoni, espertissimo ormai di questioni islamiche in Italia, è riuscito a ottenere il dettaglio del flusso di denaro che parte dal Qatar e arriva nel nostro paese. Per ora sono arrivati circa 23 milioni, ma ne sono stati stanziati 50 per finanziare un totale di 45 progetti, progetti che consistono nel rafforzare, costruire e ampliare moschee e centri islamici. La somma più alta è destinata a Bergamo, 5 milioni, e subito dopo arriva a Roma Cento Celle, alla quale sono destinate 4 milioni. I finanziamenti sono destinati soprattutto al nord e in Sicilia. Sottolineiamo subito che non c'è niente di illegale in questo finanziamento, però forse c'è una questione culturale, cioè il Qatar infatti sponsorizza una versione dell'islam ultraconservatrice e lo fa nella ancora giovane comunità islamica italiana, cosa che rende potenzialmente più difficile l'integrazione. Bene, le due notizie sembrano irrelate, beh, forse non lo sono proprio del tutto. Da una parte porti aperti per fare soldi, dall'altra un mare di soldi per insegnare agli immigrati una versione fondamentalista dell'islam. Adesso mettete insieme le due cose e immaginate il futuro, potrebbe anche non piacervi.